Una terra libera dalle speculazioni! Un weekend di guerriglia, quello che si è svolto in Val Susa, attorno al presidio Notav di San Didero, dove il progetto della Torino-Lione ha previsto di realizzare un autoporto, giudicato inutile dai membri del movimento. Le manifestazioni erano partite sabato con un corteo pacifico intorno al paesino della valle, che era stato preceduto dal blocco da parte della polizia del mercato che si tiene nella piazza di San Didero e che ospita anche il punto info dei Notav. Al termine della sfilata fra le vie, un gruppo di circa 30 persone ha bloccato l'autostrada a 32, creando uno sbarramento con pezzi di guardrail, cemento, tronchi, arrivando anche a tendere una fune d'acciaio da un lato all'altro della carreggiata, provocando forti rallentamenti alla circolazione, prima che le forze dell'ordine e gli addetti alla manutenzione liberassero la corsia. Nella notte fra sabato e domenica, gli scontri si sono fatti più forti, con il lancio di pietre, bombe e carte e fuoche artificiali da parte dei manifestanti, cui la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni, giudicati nel corso di una conferenza stampa indetta dal comitato Notav, essere stati lanciati ad altezza uomo. E come già successo lunedì scorso, quando ad essere ferito la testa era stato un altro attivista, i lacrimogeni avrebbero causato il ferimento di Giovanna Saraceno, 36 anni di Pisa, decana della rivolta in Valsusa. La donna, con alle spalle denunce per resistenza pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e danneggiamento, ha riportato una ferita all'occhio destro ed è stata portata all'ospedale di Rivoli e poi trasferita alle Molinette, dove è stata riscontrata una frattura orbitale con una prognosi di 25 giorni. Il coordinamento Notav parla di violenza spropositata da parte della polizia, che dal canto suo ha dichiarato che la distanza fra i due fronti era superiore ai 30 metri e che i lacrimogeni lanciati non possono provocare lesioni simili, in quanto sono creati in modo di sfaldarsi in piccoli dischi di polvere urticanti che producono il fumo. Mentre le certamente della Digos sono in corso, il comitato Notav ha distribuito il video della sommossa.